It from Bit, i quanti, la materia, l'energia e la coscienza. Giovedì alle 20 e 30 su Radio Sound. Le nuove conoscenze della fisica e della medicina quantistica con la partecipazione di scienziati, medici e ricercatori. Una trasmissione realizzata in collaborazione con Spazio Tesla e il congresso Acqua e Coscienza, l'interazione che guarisce. Buonasera ed eccoci al nostro consueto appuntamento con It from Bit, appuntamento quindicinale in onda su Radio Sound, appuntamento organizzato in collaborazione con Spazio Tesla ed è un po' anche la continuazione del congresso di fisica e medicina quantistica dedicato ad Acqua e Coscienza. Beh, è una serata decisamente molto ricca. Laura, buonasera, ciao Alberto. Molto interessante a tutti, buonasera. Questo nostro It from Bit parte la grande stasera, vero? Anche perché ci sono degli ospiti veramente eccezionali. Intanto, tra poco, abbiamo anche una sorta di tribuna. Abbiamo anche un telefonino, avete sentito intanto che squilla in sottofondo e va bene. Sarà quello di me. Sarà il mio, sì. Vabbè, eccolo qua, guarda. Però io l'ho silenziato, eh? Vabbè. Però è by Larsen. Va comunque, sì, crea comunque degli effetti. Allora, dicevamo che abbiamo degli ospiti veramente importanti, così come sempre. Noi siamo alla quarta puntata e devo dire sono uno più bravo dell'altro. Questa sera avremo la dottoressa Giuliana Rapaccioli, che è un omeopata, un medico e ci parlerà della medicina funzionale. Qualcuno si chiederà che cos'è, seguiteci e lo scoprirete. E poi Emiliano Toso, ormai lui è conosciuto a livello internazionale, anche perché Emiliano, prima biologo, poi musicista, ha dedicato ormai la sua vita a creare della musica 432 Hz, che ti fa stare bene, che crea il benessere. Tra l'altro è davvero un grande personaggio, lui apre a livello europeo tutte le conferenze di Bruce Lippon e anche di Greg Braden. Quindi chi conosce questi due personaggi conosce sicuramente il valore. Prima di partire e di ricordare anche come poi venire in contatto con noi, io volevo dedicare questa puntata, se siete d'accordo, a Stephen Hawking. Assolutamente. Morto proprio recentemente, quindi il 14, due giorni fa, è stato cosmologo, fisico, è stato matematico, astrofisico, contemporaneo. Perché noi a volte ricordiamo quelli che ormai non ci sono più e magari non ci soffermiamo invece su questi grandi geni contemporanei. Purtroppo lui ha cessato di vivere, soffriva di SLA, quindi dall'età di 21 anni. L'ha incontrato nel 63 praticamente, quindi praticamente in età giovanissima. Certo, e dobbiamo dire che insomma lui è conosciuto tra i migliori fisici teorici del nostro tempo, è noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologia quantistica e sull'origine dell'universo. Quindi io direi, facciamo un applauso. Un applauso, sti veloce. E visto che questa è una trasmissione che si occupa di fisica e medicina quantistica, credo che fosse un attributo più che dovuto, anche perché è grazie a lui che oggi possiamo parlare in una trasmissione radiofonica di fisica e di medicina quantistica. Io aggiungerei anche una piccola cosa, visto che abbiamo anche dedicato una pagina del nostro sito, dove ho chiuso tra l'altro quella che è stata la storia di Stephen Hawking con anche un passaggio legato a quella che ultimamente lui definiva comunque, non di come nuova frontiera, ma comunque un occhio, uno sguardo anche a quelle che sono le possibilità di vita extraterrestre. Tra l'altro lui è stato anche un pochettino storpiato in quello che diceva, perché non è che lui dicesse, attenzione non andiamo a conoscere gli eti perché sono pericolosi. Lui aveva detto in realtà un'altra cosa, ma ben sappiamo che a volte i media poi ci mettono del loro. Ha dato una buona dose di probabilità possibilistica sul fatto di vita, che non deve essere per forza come quella terrestre, ma comunque in questo sconfinato universo e nei multiversi, visto che parliamo di fisica quantistica, ci può stare. Quindi tributo veramente a un grande scienziato. Allora, come fare per contattarci? Intanto ricordo che siamo in diretta su Radio Sound sui 94, i6 e i 95 in FM. Potete scaricare l'app gratuita Radio Sound 95 per seguirci ovunque nel mondo, ma c'è anche la diretta Facebook, e quindi basta andare nella pagina Facebook Radio Sound 95 oppure Facebook Spazio Tesla. Certo, certo. Perfetto. E quindi su tutte e due le pagine, credo forse anche sulla pagina Facebook di Piacenza 24. Tra l'altro, Rita, mi sembra che siano un po' aumentati i nostri followers dalla prima puntata. Sì, sì, sì. Siamo alla quarta. Devo dire che siamo molto contenti di questo. Quindi questo It From Bit sta cominciando a espandersi. Allora, diciamo che è un piccolo seme che abbiamo messo a dimora e adesso forse qualche piccolissimo microscopico germoglio lo vediamo insomma venir fuori e come tutti i germogli poi insomma, se ben innaffiati, cresceranno forti e sani. Grazie anche a tutti gli ospiti che noi abbiamo, quelli che ci raggiungono in studio, che poi adesso Rita introdurrà. E' proprio in chi crede in questa divulgazione. Ricordo allora, 333, segnate, 7575246, ripeto, 3337575246, potete mandarci un whatsapp testuale oppure anche un audio, quindi potete farlo. Mettete un po' di mi piace anche sulla nostra pagina Facebook, se ci state seguendo su Facebook. E eventualmente se volete anche commentare, fare una domanda, dire semplicemente se vi interessa quello di cui stiamo parlando. E adesso, e adesso, attenzione, attenzione, perché presentiamo, abbiamo stasera niente po' di meno che la tribuna dello yoga della risata. Allora, un bel biglietto da visita però lo si deve fare non soltanto con un applauso, ma il biglietto da visita dello yoga della risata è così. Molto bene, molto bene, yeah! Allora, la prima parte della trasmissione noi la dedichiamo soprattutto a ciò che già succede in provincia di Piacenza, quindi che è dove appunto Radio Sound trasmette, quindi molto vicino a noi, che è assolutamente in sintonia con la fisica e la medicina quantistica. Quindi, parlare di yoga della risata significa parlare del benessere. A Piacenza, in provincia, ci sono già molti centri che si occupano di benessere olistico, diciamo. Certo. E quindi noi cominciamo subito con Lucia Cassi, che è già molto conosciuta, è forse una delle prime persone che ha pensato ad un centro olistico così articolato e che ha introdotto lo yoga della risata. Ciao Lucia! Allora, ciao Rita, ciao a tutti e grazie a chi ci sta seguendo. Io sono Lucia Cassi, nel 2013 ho fondato l'associazione del chakra e del cuore, perché secondo me tutto parte proprio dalla vibrazione del cuore, quindi l'intento era portare proprio qualcosa di armonico nella vita delle persone, diffondere qualcosa che potesse creare un inizio di mondo nuovo, no? Come diceva Rita, un germoglio. E questa associazione è, come è partita, è partita subito anche come Club della Risata, il primo in provincia di Piacenza. Io in quell'anno avevo conosciuto Richard Romagnoli e mi sono innamorata di questa tecnica, proprio per il benessere immediato, perché è immediato che ti lascia nel corpo a 360 gradi. E quindi ho voluto iniziare a diffonderlo, a farlo conoscere il più possibile. E diciamo che alcune persone che hanno iniziato a partecipare e a conoscere gratuitamente questa disciplina si sono innamorate a loro volta e sono qui stasera diventando teacher anche esse e stanno tutte creando qualcosa di meraviglioso nella loro unicità. Lucia, tu comunque quando hai portato lo yoga della Risata nel tuo centro, avevi già un centro aperto da un po' di tempo che si occupava anche di altre... Allora, è nato simultaneamente, nel senso che l'associazione è nata proprio come associazione e come club. L'associazione comunque abbraccia a 360 gradi le discipline olistiche perché ha un nuovo modo di vedere la vita e di portare insegnamento alle persone proprio nel senso che siamo noi artefici della nostra vita, il cammino che si inizia. E abbiamo deciso di diffondere a 360 gradi varie discipline perché così ognuno può scegliere quella che gli risuona di più. Essendo così tante e così tanto articolate abbiamo anche la scuola di naturopatia triennale dove si formano i naturopati e è l'unica in Italia ad avere lo yoga della risata tra le materie di studio, proprio lo yoga della risata per la naturopatia. Ma tra l'altro è davvero molto... Una grande conquista. Lucia, allora ricordiamo, l'associazione che tu dirigi è l'associazione Il Chakra del Cuore, si trova a San Giovanni, in Viale Amendola 4. Avete un sito, una pagina Facebook? Sì, abbiamo un sito, proprio la pagina Facebook, Il Chakra del Cuore, scritto tutto attaccato, si trova subito. Ci sono proprio tutte le... Chakra con la K? Con la K. Ok, no, perché qualcuno dice che scrive con la C, però il tuo è con la K, perfetto. Si trova subito, poi c'è il blog Il Chakra del Cuore, su Facebook vengono pubblicati i proprio tutti gli eventi, le foto, per cui sì, sì, seguitici che... Benissimo, quello che ti chiedo Lucia ancora, sono diverse le pratiche che tu tra l'altro porti nel tuo centro e ormai avete anche degli appuntamenti settimanali, vuoi ricordarci quali sono? Allora, settimanalmente ci sono le tre serate di yoga con Veronica Codeghini, poi c'è lo yoga della risata, il primo lunedì del mese, la sessione gratuita e al martedì c'è Maria con la palestra e il sorriso, ci sono le conferenze al mercoledì sera, ad esempio a sera c'era la conferenza sulla simbologia del fiore della vita e durante i weekend ci sono o la scuola di naturopatia oppure seminari vari, ad esempio in questo weekend abbiamo sabato l'interpretazione dei sogni con Silvano Paolucci e domenica sono emozionata perché viene la mia prima insegnante di Aura Soma che è meravigliosa e ci verrà a fare appunto un pomeriggio tra le essenze, i colori, i profumi dei maestri dell'Aura Soma e quindi anche la simbologia molto importante. Lucia grazie, potremmo parlare veramente con te a lungo perché so che fai delle cose meravigliose e avremo modo poi di continuare a parlare magari con l'aiuto anche dei referenti che poi tu fai venire nel tuo centro. Quindi ricordiamo allora per chi volesse mettersi in contatto con il chakra del cuore potete scrivere a il chakra del cuore chiocciolagmail.com Benissimo, grazie a Lucia Cassi del chakra del cuore, grazie Lucia. A questo punto però, a questo punto direi prima di passare la parola a Maria invece facciamo un intermezzo quindi un'applicazione pratica dello yoga della risata. Allora vi posso far vedere il saluto del cuore, praticamente diciamo le persone di mettere le mani a forma di cuore e di guardarci negli occhi e il saluto del cuore sarebbe ho ho ha ha, il significato sarebbe ti saluto col cuore e porto la mia gioia a te. Proviamoci allora, guardiamoci negli occhi, ho ho ha ha, ho ho ha, ho ho ha, ho ho ha, ho 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 ha. Benissimo, passiamo a Maria Maria, ciao Maria Ferraro Ferraro Ferraro, perfetto però vai come una Ferrari Oh yes Perché la sua risata è squillante bella, ti fa venire voglia veramente di stare bene e di ridere Maria, allora, molto brevemente la tua storia, il tuo cambiamento perché il tuo libro adesso poi ci dici qual è, anzi non ce l'hai a portata di mano bravissima, così lo facciamo vedere visto che abbiamo anche la diretta Facebook intanto che, benissimo eccolo, lascialo pure così, ci leggi anche il titolo Maria, che è molto bello Il titolo del libro è Mentre amo, riscopro il luminante amore e se leggi le iniziali è Maria Bellissimo, bellissimo proprio perché il percorso che ho fatto con lo yoga della risata è riuscito a a riscoprire qualcosa di molto grande dentro di me proprio l'amore attraverso la risata e il percorso verso l'esterno è quello di riuscire attraverso sempre la risata il mio sorriso a donare amore e quindi mi si illumina tutto Senti, ma spiegami un attimino questo libro perché è molto intimistico molto poetico sembra molto ispirato non è un romanzo ovviamente ecco, sono i tuoi pensieri quelli che nascono forse in quei momenti di silenzio quando sei a tu per tu con la tua anima Sì, senz'altro ed è partito anche perché la risata sai non è mai presa seriamente comunque è qualcosa di profondo è qualcosa che ti fa bene scusate ma sono emozionata perché sì è qualcosa di veramente intimo e ti libera ti fa quindi tu in pratica diciamo quando si inizia un percorso molto probabilmente l'inizio di un percorso scaturisce anche da forse un malessere che abbiamo interiormente abbiamo bisogno di trovare qualcosa che dia un senso alla nostra vita quindi anche per te è cominciato tutto così quindi il desiderio di avvertire che c'è qualcosa di più e quel qualcosa di più lo vuoi scoprire Sì, esatto proprio così e quindi attraverso attraverso questo percorso attraverso questi miei momenti di silenzio riesco a riscoprire ed andare avanti Rita scusami ma io sono emozionata No, no, no posso dire una cosa intanto No, la cosa interessante che mi viene in mente vedendo loro e la gioia con la quale in maniera molto molto spontanea non ha fatto una risata forzata mi viene in mente quello che sentiamo dei cric cric c'è un topino che sta mangiando ok c'è un problema comunque noi proseguiamo sì, proseguiamo perfetto no, in mente quello che diceva Tiziano Terziani che aveva conosciuto appunto degli degli hindù e questi hindù praticamente almeno due volte al giorno anche dei dirigenti d'azienda a un certo punto due volte al giorno si mettevano a ridere a crepa pelle perché è proprio un qualcosa di terapeutico e questo fa molto bene veramente infatti io vedo io a volte mi accorgo almeno dove lavoro io di tanto in tanto quando sento che c'è tensione io incomincio a sparare delle scusatemi il termine delle delle stupidaggini anche delle cose sensate si mettono tutti a ridere e si termina il momento di tensione e tutti sono più tranquilli questo funziona veramente guarda io ti leggo ridere libertà scrive Maria nel suo libro alla ritmo del battito del mio cuore ho dato voce all'unico canto di gioia che la mia risata voleva che fosse davvero un applauso grazie Maria grazie grazie facciamo allora una piccola cosa di yoga della risata tu cosa proponi? misuriamo proprio la nostra gioia la nostra risata come la misuriamo? la misuriamo immaginando di avere un metro nella mano destra con la sinistra andiamo verso il nostro metro e poi ye 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 bellissimo grazie grazie è una bella è una bella risata poi se si inizia non smettiamo più veniamo ad Anna allora Anna Montanari ciao Anna ciao ciao ma è un piacere per noi può essere solo un piacere per noi guarda è veramente magnifico allora Anna ha una caratteristica speciale ha una risata portentosa si Rita io adoro riter e diciamo che il padre eterno me l'aveva lasciato come dono questa risata poi ce la fai come pratica ma certo lo vedo l'ora tu hai scritto tra l'altro un cd e un libro si spiegaci allora mi sono resa innanzitutto se posso raccontare la mia storia certo ho conosciuto Richard Romagnoli e lo yoga della risata nel 2013 e in un momento che ho toccato il fondo nel senso bello che lo dice ridendo anche anche me l'ho toccato il fondo mi sentivo vittima della vita diciamo pessimista ero sempre arrabbiata incolpavo tutti del mio malcontento non ci posso pensare perché io ti ho conosciuto un giorno e la trasformazione non ci posso credere volevo picchiare tutti era un tipaccio diciamo in più avevo un anno e mezzo prima avevo perso mio padre che adoravo veramente e niente lo yoga della risata mi ha dato più di quello che pensavo io pensavo di ridere basta invece cosa è successo? l'ha trasformata la mia vita perché ridendo oltre ad essere terapeutico fa ridere tutti gli organi vedi proprio la vita in modo positivo cioè c'è il fegato che fa ha 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 il pancreas in poche parole Rita basta guardare veramente trasforma la propria vita in poche parole adesso sono padrona io della mia vita non sono più spiegaci cosa c'è in questo cd in questo libro ecco ho creato questo libro cd in collaborazione del mio amatissimo nipote Simone perché mi sono resa conto io pensavo che fosse facile per tutti ridere è così semplice per me però vedo che molta gente fa fatica a ridere anzi è molto difficile e allora ho pensato ho detto Simone ho coinvolto mio nipote il libro l'ho scritto per spiegare cosa è la risata i vari benefici e il cd ho detto Simone registrami quindi c'è la tua risata 20 minuti per 20 minuti di risata brava Anna adesso però la sentiamo vogliamo sentire se posso spiegare cosa ho fatto 20 minuti la mia risata semplice 20 minuti sempre la stessa risata mia con la musica dinamica composta da mio nipote che è un abile che meraviglia tu ci fanno bellissima 20 minuti con la musica rilassante e poi la meditazione guidata io che la recito in italiano mio marito in francese mio nipote Simone in inglese perché siete pure poliglotti fantastico mamma ma che meraviglia secondo me per rendere ancora meglio anche il dialetto piacentino il mio scopo di vita Rita è di divulgare la gioia grazie è la mia missione di vita allora ci regali un po' di gioia con la tua risata dai pronti via dai il libro si intitola ridi alla vita ridi alla vita perché questo titolo perché appunto se io amo la mia vita rido alla vita la vita ride a te benissimo si sono pronti a ridere si sono prontissimi vai grazie 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 Anna posso dire una cosa una cosa rida si è giù di morale deve ridere di più io l'ho sperimentata ho riso per un'ora di fine sembravo è più potente di una canna non fa male è gratis non fa male è benefico guarda intanto se possiamo salutare anche Deborah Debo Deborah Mara e poi vabbè vedo un po' di mi piace che passano quindi grazie per a tutti io non vorrei che qualcuno che qualche universitario le avesse male ma pensate e devo dirlo questo perché non si può esimerci da dover dire quale università alla Bocconi insegnano ai futuri manager a essere sempre seri arrabbiati passatemi i termini incazzati perché così spaventano infondano teori delle persone niente di più sbagliato pensate com'è strutturata ma sta cambiando sta cambiando sta cambiando non ve lo dico non ve lo dico era così adesso sta cambiando non me ne vogliano i boconiani è stato anche bellissimo il borghiero sì sì bellissimo dobbiamo andare velocissimamente perché adesso abbiamo l'appuntamento anche con la dottoressa Giuliana Rapaccioli ma prima vogliamo sentire da Monica Agnoli un pochino anche il tuo percorso e quello che fai ora intanto grazie per questo invito e per questo spazio mi ricollego ad Anna perché ho avuto modo di partecipare alle 24 ore della risata che è stata fatta a Reggio Emilia proprio per portare l'elevazione di Oga della risata a terapia e lì in collaborazione con il professor Permario Biava che si occupa di genetica e di epigenetica è partito tutto un progetto proprio per le persone che sono affette da oncologia piuttosto che altre situazioni noi di cosa ci occupiamo però di prevenire perché se si vuole stare nel benessere l'importante è prevenire un po' come per loro la mia storia è stata molto impegnativa perché io quando ho iniziato a fare yoga dalla risata mi sono disfatta fisicamente poi la vita mi ha chiuso le porte del lavoro e tante altre cose attualmente comunque voglio vivere questa possibilità di restare prima di tutto nella gioia e se si è nella gioia si riesce a trasmetterla certo quindi sono nate delle collaborazioni con il comune di Corte Maggiore dove io abito questo ci fa piacere perché è una collaborazione con un'istituzione sì e si dice che è sempre un po' difficile loro invece sono riusciti ad entrare nell'aspetto della Università Pallavicini a dell'età libera a proporlo come percorso per le persone che si incontrano anche a fare altre esperienze fra la quale ci può essere pittura piuttosto che lettura giornalismo certo e anche yoga della risata proposto in due giornate sia il martedì che al mercoledì alle 17.45 tutte le settimane tutte le settimane partecipate almeno da una decina di persone ciascuno con una storia particolare e questo fa molta gioia perché scusate un po' la voce sono raffreddata però ci si incontra volentieri e le volte in cui magari c'è un attimo di sospensione siamo tutte a chiedere come sta la persona come possiamo aiutarla eccetera anche perché siamo tutti collegati quindi è giusto che avvenga questa relazione poi la collaborazione con le scuole anche con le medie si dice che è una fascia d'età difficile magari perché ci sono tante variazioni ma credo che i ragazzi rispondono benissimo e c'è stata questa collaborazione con Progetto Pilota lo scorso anno che si sta ripetendo sulle scuole di Calendasco benissimo la richiesta dei gruppi di associazione che seguono magari i ragazzi nel dopo scuola diciamo e vogliono fare un progetto su Carpaneto questa è un'informazione che è arrivata ieri quindi domani sera sarò lì per le 17 a provare con loro siete molto brave tutte anche perché ognuna di voi so che comunque ha le palestre del sorriso va anche in cento e tu sei stata la Don Venturini quindi direi che sì Monica per contattarti eventualmente allora io sono quella meno informatizzata per il momento e lascerei magari il numero di telefono è 347 4075 744 benissimo grazie Monica poi invece il giovedì ci vediamo insieme con Maria Teresa che ci fa un saluto veloce volevo chiedere una cosa a Monica chi è che arrivi di più le persone maturi o i ragazzi allora scusate con i ragazzi è complesso in base alla fascia d'età perché io vi sto entrando nella scuola che pur essendo presente l'insegnante e coinvolgendo in primis le insegnanti anche in più di una che seguono le stesse scuole le stesse classi c'è la difficoltà il maschio o femmina siamo ancora in quelle fasce il sottogruppettino allora lì subentra la capacità del trainer del teacher di mettere degli insider negli esercizi affinché tutte queste piccole cose che magari sono state anche decise insieme agli insegnanti possano essere superate con un esercizio perché con yoga generalizzato in pochissimo persone che non si conoscono arrivano a potersi toccare cosa che ormai non si fa più il guardarsi negli occhi il neurone specchio insomma lavoriamo con qualcosa di molto importante l'aspetto ormonale che cambia si abbassa il cortisolo si alzano le endorfine e quindi è davvero un'ottima Maria Teresa grazie allora anche tu vuoi dirci molto brevemente? io insieme a lei conduciamo il Mamo Club al Borgo Faxel tutti i giovedì sera il 19.30 e anche noi ben lì abbiamo il nostro gruppetto di ragazze che le ringraziamo che ci hanno detto andate tutte e due insieme perché noi inizialmente dovevamo fare una qui e una lì ci dividevamo però ci hanno dato l'opportunità di venire tutte e due qua a goderci di questa opportunità e noi andiamo avanti cercando di far conoscere la risata a più persone benissimo perché più si ride più si sta bene certo chiudiamo allora con cosa ci proponi Monica? Monica Maria Teresa questo esercizio che ci porta tutti a allungare le mani alla stessa delle spalle ok lo facciamo anche noi a iniziare a caricare proprio sentire lì qualcosa che magari nella giornata di oggi ci può avere infastidito ci può essere risultato magari un po' di peso può essere collegato a un evento oppure a una persona e poi lo prendiamo ma stringiamo i pugni proprio forti per sentirlo perché se è successo a noi qualcosa ci deve insegnare certo in un inspiro lo portiamo alle spalle lì lo tratteniamo per risentire cosa ci voleva insegnare e poi espiriamo e lasciamo andare lei sono pronta da prima lei era già pronta da prima ha pregosto il tempo perché in sera carichiamo la gioia Danila benissimo Danila un salutino ce lo fai anche tu? ciao a tutti vuoi dirci qualcosa? una cosa sola che lo yoga la risata è unione la dimostrazione è questa che ognuno è in un suo paese ma siamo comunque tutti qua per un obiettivo unico benissimo e per piacenza per fuori piacenza per tutti insomma allora chiudiamo con grazie a Kitty grazie allora brevemente mi sono unita a questo meraviglioso gruppo ho conosciuto anche io Ricciardo Magnoli ho avuto un'esperienza alla biblioteca molto interessante un anno un anno fa circa e dove giusto per rispondere alla domanda che era stata posta prima Monica ho notato che erano più coinvolte le persone di una certa età che non i ragazzi ed è stato bellissimo è molto bello davvero quando proviamo gioia e con questa gioia nel cuore portiamo la gioia agli altri perché vedi risvegliarsi nelle persone qualcosa di meraviglioso che è la loro essenza e quindi questo è credo il dono più bello che possiamo farci e fare e quindi chiudo anch'io con un esercizio dai tanto per non smentirmi che è il filo intermentale il filo intermentale intermentale perché comunque a fine giornata spesso arriviamo con un carico di preoccupazioni notevole e quindi sarebbe buona cosa passarci lasciarli andare appunto facendo conto di avere questa sorta di filo che anziché essere interdentale ci passiamo da un lato all'altro della testa lo facciamo passare dall'orecchio lo facciamo entrare e poi cominciamo eeeh grazie grazie veramente grazie per essere venute qui per averci regalato non un sorriso ma davvero una grassa risata ah grazie grazie mille grazie mille perfetto allora intanto io volevo ringraziare velocemente anche Fabrizia Marina che stanno guardando mi sono persa vedi io sono handicappata in queste cose allora aspetta che volevo andare volevo salire ecco qua Emanuela che dice mitiche ho ho ha ha una grande coach per voi poi catch 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 ah perché il catch cos'è ah è una tecnica cos'è il catch che facciamo anche al chakra del cuore che sarà verso fine mese è una tecnica meravigliosa che facciamo anche al chakra del cuore e praticamente diciamo che andiamo a portare dentro di noi tutti i momenti più belli della nostra vita che servono come ancore e servono proprio nel momento di portare a svegliare questi ricordi grazie una tecnica molto bella saluto Emanuela che atticcia anche lei e volevo approfittare e salutare anche Martina che non ha potuto saluti Martina un vino Martina ciao Martina ciao Manuela ok grazie grazie Lucia del del chakra del cuore aspetta della precisazione allora Cristian vogliamo salutare anche Cristian che dice brave Luisa Manfredini come si fa a comprare il cd Anna come si fa a comprare il cd vuoi darla la tua mail allora via con la mail annamaria.montachiocciolagmail.com annamaria.montachiocciolagmail.com e poi tocca il mio numero di cellulare 339 89 04 126 ok se per caso vi perdete qualcosa comunque mandateci anche un messaggio con la richiesta e poi vi diamo tutti i contatti salutiamo anche Anelia che dice gioia pura maveric reale molto bene molto bene yeah un saluto al chakra del cuore Maria ho letto il tuo libro hai fatto un lavoro meraviglioso grazie per avere condiviso con noi che bello benissimo dai grazie scrivete scrivete continuate continuate ovviamente mettere mi piace scrivere insomma condividete con noi che è sempre molto bello ed è anche un bel riscontro per chi sta facendo davvero un grande lavoro a favore dell'umanità posso dirlo? posso dirlo? per il benessere sicuramente dell'umanità grazie ragazzi a questo punto Laura possiamo proseguire noi ragazzi vi salutiamo se volete potete rimanere con noi quindi fate come credete anzi può essere solo un piacere e noi adesso continuiamo invece con la seconda parte della trasmissione perché qui abbiamo i collegamenti con i relatori che hanno partecipato anche al congresso di fisica e medicina che tra l'altro è uno degli obiettivi anche di Spazio Tesla è proprio di integrare quelle discipline che arrivano anche dalla gente chiamiamola gente comune che però scoprono un qualcosa come ci hanno raccontato loro che ha cambiato la vita e ci sono gli scienziati che stanno veramente adesso scoprendo che a quello che diciamo a livello umano viene spontaneo loro cominciano a saper trovare una chiave scientifica perché questa è l'integrazione giusta e quindi facciamo sempre questo abbinamento quindi grazie grazie veramente a tutte al chakra del cuore al sorriso a tutte al libro che veramente ho avuto modo di a 20 minuti di risata di Anna grazie perché questa risata fa ridere tutte le cellule le cellule si rigenerano e quindi questo poi ce lo raccontava anche Emiliano Toso secondo ospite proprio assolutamente la cosa che diceva non so chi ha detto la risata viene presa un po' così no? e invece in realtà la risata ha un fondamento incredibile incredibile perché smuove dai piedi alla punta dei capelli e quando si è finito di ridere si sente che dentro qualcosa si è trasformato è cambiato è una vibrazione non dimentichiamoci che Patch Adams è a livello medico assolutamente l'organizzazione mondiale della sanità comunque ha riconosciuto che nel benessere della persona questo è molto importante lo stato psicofisico è determinante e sociale anche quindi il lavoro di comunità che si sta facendo tutti insieme compreso Radio Sound compreso Spazio Tesla è quello che proprio veramente crea benessere ed è stato riconosciuto anche da Laura Merle Brava Laura Siamo in collegamento con la dottoressa Giuliana Rapaccioli medico chirurgo esperta in agopuntura omeopatia e fitoterapia relatrice numerose conferenze e simposi scientifici presso istituzioni pubbliche e private Buonasera dottoressa Rapaccioli Buonasera a voi Buonasera Buonasera Vai Laura La dottoressa Rapaccioli stasera ci parlerà di medicina funzionale sì medicina funzionale però so che abbiamo già anche molti whatsapp che sono arrivati passiamo subito alle domande magari sentiamo la dottoressa se ha qualcosa da introdurre rispetto appunto anche a quello che ci ha raccontato i suoi temi durante il congresso di acqua e coscienza quando abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere la nostra relatrice ma intanto vi ringrazio per avermi chiesto questo collegamento e vedo che mi avete presentato come il medico della medicina funzionale la dico ridendo ma così è la medicina funzionale non è altro che un sistema che si basa sull'integrazione fra tutto ciò che ho sentito prima già accennare in chiusura del collegamento precedente fra quello che è considerata ancora oggi una medicina complementare e la medicina che tutti i medici hanno studiato in università quindi è quel qualcosa che unisce e legge in modo sistematico e sistemico i sintomi e i segni che il paziente ci racconta con questo questo è un pochino il primo a onore del vero va detto che il primo che ha tentato in modo sistematico di leggere questa integrazione è stato il dottor Schimmel che è un medico tedesco purtroppo oggi è venuto a mancare per una patologia grave però è il primo che ha tentato di dire che la medicina è una unica e che quindi il suo sforzo era volto a integrare i vari aspetti declinandoli sempre cercando sempre dei dati oggettivi a conferma o a smentita di quello che prima si poteva pensare o supporre non so se sono stata abbastanza chiara ma dirlo in tre parole non è così semplice è stata molto chiara io direi che dalla regia mi stanno dicendo che abbiamo già un vocale c'è qualcuno che ha portato avanti una dottoressa buonasera volevo sapere qual è il legame tra la medicina quantistica e l'omeopatia grazie buonasera allora intanto credo che sia doveroso per rispondere non vorrei essere troppo tecnica ma credo che vada data questa spiegazione allora quando si parla di omeopatia bisogna distinguere quella che è considerata dal punto di vista reale l'omeopatia cosiddetta vera per capirci noi partiamo da un presupposto c'è stato un signore che si chiamava Avogadro che ha dimostrato che qualsiasi sostanza diluita entro 10 alla meno 24 vuol dire dimizioni successive fino a 10 alla meno 24 in queste soluzioni abbiamo sempre presenza di molecola oltre a 10 alla meno 24 non c'è più molecola quindi quando io parlo di omeopatia parlo di un qualcosa che è ultramolecolare quando io invece parlo di nanogrammi di 10 alla meno 6 di prodotti diluiti e ai quali ho applicato una tecnica di preparazione omeopatica qui parlo di prodotti e di sostanze scusate più che di prodotti e di sostanze che hanno in sé ancora anche un'azione molecolare quindi va distinto proprio dal punto di vista concettuale cioè giusto per entrare nel vivo della domanda quando il professor Garazzini dice che l'omeopatia è acqua fresca dice una profonda verità se la analizziamo dal punto di vista molecolare perché in un prodotto omeopatico vero io con i metodi che ho oggi di valutazione non dimostro più la presenza di nessuna molecola della sostanza di partenza poi bisognerebbe discutere per rispondere alla domanda che mi è arrivata che tipo di acqua è e qui si aggancia al discorso della fisica quantistica è di tutti i lavori e le ricerche fatte non ultime quelle del professore Montagné non ultime quelle fatte dal professore Bia dal fisico dell'Università di Napoli eccetera eccetera voglio spendere subito una freccia così tagliamo immediatamente e non entriamo in contenziosi e in discussioni che secondo me sono veramente sterili io credo che bisogna partire da due assunti diversi da due postulati diversi se si vuole parlare di omeopatia io non posso applicare una tecnica di ricerca e la metodologia di ricerca che uso per una qualsiasi sostanza una qualsiasi molecola usata in dosi ponderali vuol dire tanta molecola come uso per il farmaco per altre cose e non posso usare questi criteri di ricerca applicandoli a un campo omeopatico quindi bisogna creare come dire un costrutto di ricerca diverso anche se voglio dire la professoressa Betti dell'università di Bologna un'agronoma ha ormai dimostrato che le piante non sono certo soggette all'effetto placebo almeno non è dimostrato e nonostante quello lei ha dimostrato che diluizioni omeopatiche vere quindi ultramolecolari cambiano completamente la germinazione delle piante quindi questo ci dovrebbe invitare tutto il mondo della ricerca ad avere un approccio di osservazione di ricerca vera di cercare di capire perché quelle piante hanno germinato perché la domanda è questa cioè la domanda è perché un prodotto dove non c'è più molecola dentro ha cambiato una risposta per esempio su piastre di germinazione di semi no? se noi pretendiamo di capire perché quelle piante che va oltre la molecola è certo è l'informazione perché di voler dimostrare che comunque non c'è niente allora partiamo da presupposti che non c'è confronto mi vorrebbe dire non c'è tritto per discutere insomma quindi sicuramente l'azione fisica che viene applicata alla preparazione del faro colonopatico incide e modifica no? la soluzione stessa certo come dove va applicato un sistema di ricerca dedicato no? dottoressa potremmo anche avanzare l'ipotesi e azzardare che anche il preparatore entra in gioco nel momento in cui prepara quella che è la sostanza no? no no quindi il preparatore non c'entra no l'operatore è una macchina io uso quando uso un dinamizzatore uso una macchina ok quindi non uso non siamo più alle succussioni manuali di Hahnemann sì sì sono passati 200 anni insomma quindi voglio dire Montagné su questo è abbastanza chiaro c'è la modificazione della struttura dell'acqua anche se oggi abbiamo avuto il professor Benerist che era un scienziato appreditato nei migliori tempi della cosiddetta scienza nostra ortodossa cartesiana quando ha detto ma forse l'acqua si modifichi e porta in sede le informazioni immediatamente è stato isolato da tutto il mondo scientifico oggi lui Montagné sta riprendendo in mano tutto quel filone di ricerca io ricordo siete all'ascolto di Radio Sound e il nostro numero per mandare un testo oppure anche un audio è 333 7575 246 è un whatsapp potete mandare anche un sms e passerei quindi alla domanda successiva dottoressa buonasera cosa si intende per medicina funzionale grazie domanda la medicina funzionale la medicina funzionale è un approccio sistematico e sistemico l'ho detto prima cioè di lettura del sintomo del paziente noi siamo abituati a ragionare in termini di danni in termini di cose osservabili con strumenti esami di laboratorio ok e spesso volentieri noi abbiamo pazienti che riferiscono sintomi e non segni cioè segno significa se io ho la febbre è un segno qualcosa che è rilevabile in modo oggettivo se io ho il mal di testa se io riferisco di avere il mal di testa è un sintomo non è un segno perché è un qualcosa che non è oggettivabile ok se io ho una polmonite faccio una reic torace e vedo il focolaio ci siamo se io lamento no un senso di peso un senso di può essere che esami non mi confermino questo sintomo quindi sintomo cominciamo a dire quello che il paziente riferisce segno è ciò che è oggettivabile no la medicina funzionale si occupa di leggere ciò che sono tutti i sintomi del paziente di creare e di leggere in base all'anamnesi alla storia clinica alla familiarità all'esame obiettivo agli esami di laboratorio di trovare il filo rosso che spiega la storia del paziente che io ho davanti quindi una sorta di collegamenti e connessioni diciamo trasversali a tutto quello che il paziente riferisce oltre ai sintomi alle indagini per arrivare appunto a un discorso funzionale certo io posso avere un paziente che riferisce banalmente una difficoltà a digerire e posso avere un altro paziente che riferisce lo stesso sintomi identico e avere davanti due pazienti diametralmente opposti dal punto di vista della conclusione diagnostica quindi non sto pensando a patologie gravi sto pensando proprio anche a patologie funzionali semplici certo quindi possiamo dire che si sta andando verso una medicina soggettiva più che oggettiva no 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 la medicina io credo che la medicina sia una unica non esistono medicine cioè esiste la ricerca del filo rosso della spiegazione del perché quel paziente si comporta come se avesse qualcosa di oggettivo ma non c'è ancora un danno di struttura cioè io posso avere un episodio posso avere più episodi posso avere una situazione più o meno lunga nel tempo continuiamo con l'esempio di prima di una difficoltà digestiva ok ma posso non avere nulla né a livello dello stesso nulla intendo nessun danno strutturale cioè non ho l'ulcera non ho i calcoli alla codicisti per fare degli esempi banali penso che la gente che ci ascolta sia gente sia persone e molti anche pazienti e quindi devo usare un linguaggio necessariamente molto più semplice come dire che sia comprensibile quindi dicevo io posso avere un paziente che non ha danni di struttura quindi non ha i calcoli non ha l'ulcera non ha una gastrite non ha un'infezione da ricobacter non ha un'insufficienza pancreatica porto degli esempi i più grossi che mi vengono in mente ma questo paziente ha gli stessi sintomi come se avesse quei danni allora io devo cercare di capire che cos'è che li ha generati il filo rosso e non devo accontentarmi di dire ma probabilmente è solo una malattia psicosomatica è solo somatizzazione ok? in fondo non è altro quel sintomo non è altro che una richiesta d'aiuto che il corpo in toto o una parte del mio corpo sta lanciando sta lanciando dottoressa abbiamo un'altra domanda sono qua buonasera dottoressa ci può dire esattamente cosa sono le catene causali? allora le catene causali sono la sintesi di quello che ho detto nella risposta precedente cioè la ricerca del filo rosso è la ricerca della storia un paziente non ha tante malattie ha tanti sintomi a tanti organi a tante situazioni compromesse ma devo cercare di capire qual è il Trimum Movens che cos'è che ha mosso e che ha generato questo filo rosso cioè che ha generato questa situazione quindi è la richiesta è la ricerca e questo viene fatto attraverso un'anamnesi molto attenta un'anamnesi familiare attenta un'anamnesi personale fisiologica un'anamnesi patologica remota un'anamnesi patologica recente e il prendere il paziente e il visitarlo cioè mettergli le mani addosso il corpo parla attraverso una serie di sintomi e di segni che il corpo ci dà quindi la ricerca della causa in poto lo dice la parola stessa sì una causa attenzione qualsiasi medico cerca la causa perché altrimenti vogliono gli stregoni ok l'implementazione il plus valore che la medicina funzionale e le catene causali danno è il non cercare solo la causa del momento di quello che ha generato quella patologia ma andare a cercare che cos'è che ha smosso tutto quanto perché si arrivasse a quella patologia quindi un qualcosa di più profondo dottoressa sì qualcosa di più antico di più profondo un qualcosa che non dà segni di sé dal punto di vista strutturale cioè voglio dire no cioè io faccio gli esami e non trovo nulla no ok ma questo non significa che il malato non stia male certo ok e non significa che il malato sia per forza un malato che ha una problematica di tipo psichico psicologico certo proseguiamo allora con un'altra domanda buonasera alla luce di una recente trasmissione televisiva in cui l'emopatia è stata decisamente distrattata qual è la sua opinione in proposito? anche a questa domanda ho già risposto in parte cioè io non voglio entrare in polemica ma fino a quando vogliamo usare lo stesso paradigma e la stessa metodologia di analisi e di studio di tutto cioè se io voglio studiare un qualcosa di microscopico non posso osservare occhio nudo se io voglio osservare un qualcosa di macroscopico non uso il microscopio questo per dire che cosa? che ogni paradigma ha il suo metodo di ricerca a me la cosa che ha disturbato molto perché sono abituato e sono abbastanza franca in quella trasmissione è stato per esempio l'ostinarsi a dire che non esistono lavori pubblicati non è vero chiunque qualsiasi medico per il medico il tempio le riviste i siti e i luoghi dove noi pubblichiamo e le pubblicazioni hanno un peso significativo e importante uno di questi è PubMed su PubMed ci sono fiori di ricerche e mi dispiace che sia stato misconosciuto tutto il lavoro di ricerca fatto per esempio dal gruppo del professor Bellavite dell'Università di Verona stiamo parlando di gente che ha dedicato la vita a queste ricerche e ha pubblicato e ha pubblicato quindi è veramente stato da questo punto di vista estremamente riduttivo l'approccio e dico riduttivo per usare un eufemismo mi posso permettere di aggiungere per corroborare quello che lei sta dicendo che purtroppo al servizio di certi di certi lobby ci sono persone pagate per screditare anche per infangare cose che in realtà invece sono ben documentate documentabili e sostenibili quindi purtroppo ma guardi io non voglio le dico io però non voglio scendere su questo campo ci scendo io tanto non ho uno da perdere no 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 ma io non è che non voglio non voglio espormi attenzione no no capito capito benissimo io non voglio scendere su questo campo per il semplice motivo che io credo che prima di parlare di lobby di interessi di etrologie e cose così credo proprio che ci sia mi passi il termine ignoranza non volontà certo certo cioè prima ancora di andare a pensare a interessi nascosti a robe strane che non mi interessano cioè se pensassi che c'è solo disonestà intellettuale non sarei a discutere no io credo che ci sia proprio siamo diventati talmente cartesiani cioè esiste solo ciò che tocco esiste solo ciò che posso valutare in modo ponderale ma questo vale per tutti i cambi eh dall'economia assolutamente quando in realtà la realtà non è fatta solo di questo no la realtà è fatta di mille aspetti ha capito io credo che il grosso problema per tornare al campo medico perché qui entriamo in un discorso che è interessantissimo ma voglio dire potrebbe esserci sarebbe bello farlo in un contraddittorio eh interessante ma io credo che qui la cosa sia proprio di usare nel campo medico noi abbiamo fatto progressi eccezionali cioè oggi la malattia acuta mi viene quasi da dire non ha segreti no riusciamo a fare interventi chirurgici eroici riusciamo a fare e questo è bellissimo ma se io uso lo stesso paradigma della malattia acuta per trattare la malattia cronica come diceva il professor Dio Guardi se noi perdiamo di vista che la realtà è complessa questo è ciò che ha portato la crisi dell'attuale medicina oggi oggi il fallimento della medicina è di fronte alla malattia cronica cioè non è più di fronte alla malattia acuta cioè qualsiasi medico degno di questo nome iscritto a un albo professionale che pensa di curare un'infezione acuta ok da una polmonica a qualsiasi patologia acuta con un prodotto omeopatico beh parliamone sarebbe opportuno che intervenisse qualcuno e lo fermasse ma il problema è che se io applico lo stesso paradigma della malattia cronica vediamo i risultati certo cioè la teoria dell'anti e l'anti infiammatorio e l'anti ulcere e l'anti acido e l'anti e l'anti e l'anti ma vogliamo capire se questo sistema ha ancora in sé qualche capacità di autorregolarsi o no perché questa è la domanda vera diciamo che stasera abbiamo dato lei ha dato un apporto non da poco e una scossa possiamo utilizzare utilizzando un termine medico una defibrillazione a una situazione che in realtà è quella che è insomma è in impasse abbiamo una telefonata Buonasera come si conciliano la medicina all'opatica a quella omeopatica grazie ma la medicina allora ho già risposto mi pare che eri già in parte risposto cioè il problema perché secondo me mentre lei parla intanto fanno le domande quindi può esserci una sovrapposizione no 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 però se io ho un paziente che ha una crisi respiratoria una crisi di broncospasmo cioè io sono la prima a pigliare a vena o fa di un aerosolo o pigliare a vena e fa di un corrisone certo perché la domanda l'obiettivo è che il paziente respiri dobbiamo farlo respirare poi penseremo dopo poi domani mattina discuteremo sul perché gli è venuta certo se questa cosa non è un estemporaneo o una fase acuta ci troveremo a dover ragionare perché questo paziente continua ad avere no già ok cioè questo è questo è l'apporto la medicina le cosiddette medicine complementari quelle definite dall'OMS dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che sono l'agopuntura l'omeopatia diverso è il campo della fitoterapia questo è un altro mondo no ma prendiamo l'agopuntura e l'omeopatia sono medicine di regolazione quindi il loro limite il loro finiscono quando non c'è più niente da regolare ok perché vanno ad attivare insieme ad altre tecniche insieme ad altre tecniche di terapia vanno ad attivare a regolare le capacità intrinseche dell'organismo di riadattarsi perché la salute uno sta bene quando è capace di adattabilità la malattia è l'incapacità di adattarsi ad uno stimolo noi nella storia filogenetica dell'uomo abbiamo dimostrato che l'uomo si è adattato all'ambiente il nostro fegato ha sviluppato una serie di meccanismi di difesa contro determinati veleni contro qualcuno non è ancora stato capace per cui moriamo ancora noi in intossicazione ma contro altri ci siamo lentamente adattati quindi è la storia nostra genetica che ci dimostra la capacità di adattamento assolutamente direi che stiamo andando in chiusura dottoressa mi sembra che lei abbia messo il punto il focus su due cose importanti primo ha parlato che c'è ancora molta ignoranza e noi quindi a questo punto siamo orgogliosi di fare informazione siamo orgogliosi di creare a me disturba molto quando sento dire ma tu ci credi non è non è Gesù Cristo che io posso credere o non credere torniamo al discorso o meglio posso che Gesù Cristo sia esistito un dato storico io posso credere o non credere che fosse figlio di Dio certo ma davanti a un dato scientifico non è che posso credere o non credere la formula di chiusura è stata eccezionale perché così almeno abbiamo dato un inciso un pochettino più forte sicuramente torniamo a dire che c'è tanta ignoranza voluta io aggiungo ignoranza nel senso buono del termine ignorare ignorare conoscenza quindi it from bit cade a fagiolo io oso dire che c'è poca curiosità ecco anche sì lo abbiamo dato stasera un esempio stupido chiudo mi spiace ma questa la devo dire se io ho un paziente che sta bene porto un esempio estremo che sta bene bevendo l'acqua di Po e lasciamogli bere l'acqua di Po no aspetta un attimo se il paziente sta bene bevendo l'acqua di Po il problema è il mio che devo capire perché se però lui sta bene che facciamo lo lasciamo bere ah certo grazie dottoressa grazie la dottoressa grazie mille grazie mille a it from bit su radio sound la trasmissione è quindicinale ricordiamo quindi la prossima sarà il 29 di marzo tra poco ci collegheremo con Emiliano Tuso ma intanto io vorrei salutare e ringraziare anche Nicoletta Gloria e poi siamo arrivati un po' in ritardo ma c'è ci sono dei messaggi per voi grandi grazie ho ho ha ha ok Sonia da Cinisello Balsamo perfetto poi buonasera a tutti ciao a tutti Luisa c'è anche un whatsapp vocale Mirko ah perché adesso sta contattando un attimo Emiliano Tuso e quindi non riesce a fare le due cose contemporaneamente allora ci fate allora una piccola cosa di yoga della risata intanto che attendiamo Emiliano anche di poter ascoltare una bella risata Massimo dai parte Anna e poi andiamo tutti dietro ad Anna ridete così o intanto apro le carameli vai Alberto se lo fate quasi vai molto bene molto bene molto bene molto bene molto bene yeah sono buonissime ragazzi so che c'è un consiglio perché voglio dire se vogliamo vivere nel benessere dobbiamo anche cominciare la nostra giornata nella maniera migliore allora so che c'è proprio una piccola cosa che lo yoga della risata consiglia i primi passi del mattino i primi passi del mattino sarebbero proprio l'invito di solito gli esercizi sono fatti in piedi a muovere per esempio la gamba destra prendola dicendo ho ho successivamente la sinistra ha ha e immaginare di scendere così dal letto e camminare ho ha ha sentiamo la risata chiediamo a Mirko intanto ringraziamo Max per la regia video e grazie a Mirko per la regia audio il whatsapp dello yoga della risata così lo facciamo sentire alle nostre amiche che sono in studio no aspetta scusa riparti perché io ho parlato mentre andava in onda vai pure un saluto a tutte le ragazze della yoga della risata siete meravigliose e un bacio a Rita che trova sempre il modo di proporre qualcosa di utile e interessante ma che carina grazie grazie molto bene molto bene yeah allora intanto lui si mangia le caramelle molto bene molto bene molto bene yeah allora vediamo intanto potremmo anche avere un po' di musica in sottofondo perché poi adesso andiamo a parlare e ci colleghiamo con Emiliano Toso biologo musicista ma oggi si occupa più di musica che di biologia o potremmo dire che ha trovato la strada della musica per parlare di biologia e quindi se abbiamo un po' di musica in sottofondo di Emiliano Toso che ha anche la musica a 432 Hz e se lui è già in linea lo salutiamo pronto? sì ciao a tutti sono Emiliano ciao Emiliano ciao benvenuto che bella grandissimo personaggio Emiliano lo dicevamo all'inizio della nostra trasmissione Emiliano tra l'altro Emiliano Toso musicista, compositore e biologo cellulare molto vicino alle nuove prospettive di salute offerte dagli studi della epigenetica Emiliano tra l'altro scrive della musica bellissima e come dicevamo all'inizio apre le conferenze in questo tour europeo di Bruce Lipton e di Greg Braden quindi è davvero credo per te Emiliano un grandissimo onore vabbè certo ogni volta è un insegnamento incredibile perché incontro certinaia di persone e perché posso lavorare con personaggi molto importanti nel campo della scienza della nuova scienza io sono molto felice di incontrare Emanuele perché Emiliano perché ho avuto modo di incontrarlo proprio al chakra del cuore di Castel San Giovanni per me è stato il primo incontro con lui e a parte che Emiliano ci ha fatto ascoltare questa musica bellissima ma mi è piaciuta molto la tua storia perché tu hai spiegato cambiarli e se non li cambiamo quelli per esempio che inseriamo che sono inseriti a causa dello stress che possono dare dei danni per esempio di nascita prematura o dei danni di vita adulta ai bambini che stanno per nascere se non li cambiamo vengono ereditati addirittura nelle generazioni successive quindi se i genitori che mandano stress all'interno del bambino nella pancia della mamma in questo momento creano un danno non soltanto al bambino ma anche alle generazioni successive se non vengono tolte queste bandierine epigenetiche e questo credo sia stata una scoperta importante perché ci dice come innanzitutto le possiamo togliere ma come se non le togliamo il problema non è soltanto alla generazione successiva ma anche a quelle poi ancora successive Passiamo ad un'altra domanda allora a questo punto Medici che prendono in considerazione queste teorie ovvero la possibilità di inserire in un piano di cura anche l'utilizzo delle vibrazioni sonore musicali Quindi è una domanda se ci sono dei medici che prendono in considerazione tutto ciò Sì, se ci sono dei medici che prendono Sì, mi sembra di aver capito così Ha registrato un po' male, si vede l'audio All'inizio Sì, se ci sono dei medici, Emiliano che prendono in considerazione magari con i loro pazienti l'idea appunto di introdurre o integrare dei percorsi con la musica magari collegati ad una terapia Assolutamente sì Io sto suonando in tanti ospedali in Italia e all'estero in cui viene utilizzata la musica soprattutto quando i medici devono lavorare con le emozioni e si rendono conto in molti medici che non sono più abituati a lavorare nella biologia Nella musica lo spartito non è la musica è una rappresentazione morta di quello che sarà la musica e allo stesso modo quando facciamo una foto al microscopio di una cellula pertanto che andiamo con un microscopio elettronico riusciamo a colorare quella cellula e riusciamo a vedere le proporzioni tra il nucleo dentro al nucleo riusciamo a vedere la meraviglia del DNA come arrotolato, che forme crea però è sempre una rappresentazione morta di quella cellula non so se ho reso l'idea quindi anche lo spartito da una parte e la cellula dall'altra e quindi credo che contemporaneamente ci si stia rendendo conto di quanto sia importante l'intenzione cioè l'intenzione della cellula che va a leggere quel libretto di istruzioni e l'intenzione del musicista che va a leggere quello spartito e che fa piangere la donna in ultima fila che è in gravidanza che cos'è che fa piangere quella donna? non è quello spartito è l'intenzione con cui quel musicista legge quello spartito il linguaggio che utilizza, per me importante, la 332R che utilizza lo stesso linguaggio di quella donna di quel bambino, di quelle cellule che sono in ultima fila per farla risuonare ma non è soltanto la scrittura morta è tutto il processo e quindi stiamo prendendo una visione di insieme da una parte della geologia dall'altra della musica di come sia importante quel movimento quella vita che viene impressa su quel foglio cellula o spartito per renderlo vitale e per far sì che quello possa essere conosciuto o che possa creare quel tipo di emozione mi ricordo forse dalla domanda che mi avevi fatto a Berto tre anni fa che mi era venuto in mezzo anche Neil Donald Walsh con cui avevo lavorato quell'anno e che mi aveva detto che tutto quello che io avevo visto nel piccolo, avevo scritto Win Printing un album dedicato tutto alla nascita lo spermatozolo, l'aulo che si incontrano lui la stessa cosa, con la stessa musica l'aveva vista nel grande, nell'universo, nei pianeti infatti qui stiamo ricordando il tuo bellissimo filmato che riproponi durante i tuoi concerti le tue uscite proseguiamo con altre domande allora dalla regia sentiamo chi c'è in linea Dottore, buonasera in base alla sua esperienza ci sono stati casi in cui è avvenuta una regressione da una particolare patologia con l'ascolto della musica? se sì, in che modo può essere avvenuto? grazie mi arrivano mi arrivano tanti casi tante persone che mi scrivono come stiano affrontando una terapia con la mia musica di come abbiano affrontato anche anni di terapia o di come abbiano affrontato già la seconda gravidanza con i loro bambini che sono nati con la musica quindi ho tanti diciamo casi esperienziali non ho ancora uno studio diciamo scientifico con una casistica una statistica ogni giorno ci sarà però non ho avuto tempo in questi tre anni di fare ancora uno studio e ci sono persone che vogliono fare la loro idea su quello ma per adesso c'è uno studio dal punto di vista scientifico proprio della mia musica mi ha fatto ascoltare mille persone in un modo o nell'altro però è molto interessante un caso ancora mi ricordo dell'anno scorso di due anni fa in psichiatria di un ragazzo che non parlava da diverse settimane e che dopo che ho suonato nel reparto di psichiatria eravamo soliti ho fatto dieci sedute in cui ci sedevamo al tavolo tutti intorno lui ha chiesto un foglio e una penna e ha cominciato a disegnare dopo che l'ho suonato e noi eravamo tutti in silenzio attuali proprio con la bocca aperta a vedere questa ragazza che disegnava il lago le galline la sua casa e poi ha cominciato a raccontare per 5 minuti di fila tutto dove abitava e con le lacrime agli occhi lui e noi ed è stato proprio evidente agli operatori che erano lì i medici infermieri di come la musica gli abbia proprio tolto questo tappo emozionale e ha fatto sgorgare prima attraverso il disegno e poi attraverso la parola quello che lui aveva lì da diverse settimane e altre volte per esempio ho suonato a donne già guarite da tumore al seno e anche si vede come queste donne attraverso la musica riescono ad aumentare ogni giorno il volume della loro vita cioè hanno voglia di vivere di più di ascoltare di più di respirare la musica proprio di diventare loro stesse musica non tanto adesso sto cominciando a raccogliere un po' anche tutte le persone che mi iscrivono bene magari quando avrai una casistica più ampia potrai anche appunto presentarla ecco sì il fatto che è talmente veloce diciamo sento in questo momento come mia missione è quello di andare in più posti possibili reparti possibili più ospedali possibili concerti far conoscere questo progetto perché sento che le persone ne hanno bisogno e loro stesse sono i migliori medici di se stesso cioè sanno cosa usare al mattino al pomeriggio durante la terapia alla fine perché a livello universitario proprio perché è tornata io penso che ci fosse tanti anni fa questa attenzione per la parte più diciamo legata al movimento e alla vita che nei libri sono qui davanti anche i miei libri dell'università in questo momento nei libri è stata un po' trascurata sempre cercate di andare a vedere nel piccolo nel più piccolo come se fossimo composti da tanti ingranaggi la cosa che fa muovere tutti questi ingranaggi ci siamo un po' dimenticati per un po' di anni di quello bene Emiliano grazie siamo Rita Alberto quasi in chiusura perché abbiamo raggiunto le 22 dalle regie ci dicono che dobbiamo chiudere grazie ancora Emiliano avremo spero modo di ospitarvi ancora a Piacenza ricordati di Piacenza e poi ci sentiremo perché abbiamo un'altra proposta da farti per il prossimo novembre quindi avremo modo di risentirci grazie della tua partecipazione Emiliano grazie a voi non vedo l'ora di essere tra i tuoi grazie un abbraccio a voi tra l'altro una cosa mi dà il destro per dire non dimentichiamoci domenica 25 marzo presso la sala della sala degli arazzi del collegio Il Berone di Piacenza il concerto benefico con ingresso e donazione La Voce del Cuore che è a favore dell'incanto di nascere l'associazione ricordiamo Anna Chiara Farnetti è l'espressione vocale di questa associazione e sta portando avanti un bellissimo progetto nel reparto di pediatria dell'ospedale di Piacenza per i bambini prematuri sostanzialmente canta i bambini e questi bambini stanno meglio non solo i bambini ma anche le loro mamme il loro papà e anche gli operatori e anche gli operatori il professor Biesucci lo ha apertamente detto lo stanno sperimentando e quindi la medicina sta cambiando la medicina sta cambiando sì voglio ricordare è un pochino in là però siccome abbiamo avuto l'altra volta Cesati Cassin che ci ha parlato del destino quindi ci sarà poi il seminario qui a Piacenza al centro congressi di Gariga centro congressi Galileo organizzato da Spazio Tesla sabato 7 aprile quindi assolutamente da non perdere se volete informazioni sul nostro sito www.spaziotesla.it troverete tutte le informazioni e anche come fare se vorrete appunto partecipare o iscrivervi al seminario benissimo la prossima puntata è il 29 di marzo e possiamo anticipare che avremo la dottoressa Ornella Righi nostra referente scientifica di Spazio Tesla come relatrice adesso non abbiamo ancora l'altro relatore in via di definizione e avremo anche degli ospiti un'altra associazione piacentina quindi poi vi forniremo tutte le informazioni anche attraverso piacenza24.com e Spazio Tesla e Spazio Tesla e poi avremo anche un'altra persona che si occupa del perdono che è una master appunto del perdono con Dani e Lumera e avremo lei che ci parlerà di questa cosa e poi volevo ricordare non l'ho fatto quando c'era in diretta Emiliano perché mi è sfuggito ma Emiliano sarà presente anche il 15 di aprile insieme a Dani e Lumera a Vicenza per un altro seminario sul perdono quindi faranno qualcosa insieme quindi questo questo connubio sarà meraviglioso a parte che io sono andata a un seminario proprio quello organizzato da Spazio Tesla di Dani e Lumera ho pianto tutto il tempo se poi c'è anche Emiliano si piange molto avremo bisogno di chiudere con la mia quindi chiudiamo in bellezza magari noi guardiamo anche che Emiliano ha più uno dei suoi cd con la bellissima risata delle sue figlie bellissimo è vero è vero adesso non so se ti hanno sentito comunque Monica diceva che appunto ha realizzato un disco che si conclude poi con la risata delle sue figlie e noi vogliamo concludere quest'oggi questa sera questa trasmissione c'è una piccola cosa da dire ancora abbiamo ancora delle caramelle da finire che l'aveva un po' annunciata al discorso la dottoressa Rapacioli che diceva che noi abbiamo bisogno di sentire di toccare di vedere mi permetto di ricordare a tutti di ricordare a tutti che in una famosa libro il piccolo principe c'era questa famosa frase che diceva che l'essenziale e sottolineo l'essenziale è invisibile agli occhi e beh una frase meravigliosa grazie grazie Laura per averlo ricordato ragazze ma e con terminiamo con questa meravigliosa risata corale con un ringraziamento davvero a tutte le ragazze dello yoga della risata ma non c'è neanche un uomo a parte Richard Romagnolo gli uomini non ridono gli uomini non ridono ci sono ci sono ok benissimo bene bene perfetto allora ricordatevi domani mattina primo piede quando scendete da letto ho ho secondo piede ha ha e poi perfetto un'altra cosa velocissima così chiudiamo in bellezza con le teacher e le leader dello yoga della risata grazie per essere state con noi grazie grazie alla regia grazie alla regia e grazie a voi buona serata a tutti it from beat 29 marzo su radio sound con spazio tesla ciao ciao a tutti buona serata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.